SONO LE SETTE Ve le facciamo vedere perché ormai potrebbe essere davvero questione di ore prima di un attacco iraniano contro Israele. Il Paese naturalmente è mobilitato, la comunità internazionale, lo sapete ve lo stiamo raccontando ormai da giorni, è fortemente preoccupata per quanto potrebbe accadere. Queste sono immagini che arrivano in diretta proprio dal sud di Israele. E allora questa è l'apertura di molti dei giornali, naturalmente queste ore di attese preparativi in Israele che si prepara anche ad una possibile controoffensiva. Ha sferrato un attacco anche mirato in Libano proprio per colpire alcune postazioni e sbolla. Questo, come vi dicevo, è uno degli argomenti principali che troviamo su quasi tutti i giornali. L'altro è dedicato agli Stati Uniti perché Kamala Harris ha scelto il suo vice in caso di vittoria alla Casa Bianca. Sarà Tim Walz, andremo a vedere di chi si tratta. Poi c'è apertura e attenzione anche all'andamento dei mercati finanziari mondiali e europei perché è legato, lo sapete, alla possibilità di una recessione dell'economia statunitense ma anche all'instabilità dovuta alla geopolitica soprattutto nella zona medio orientale. E poi, naturalmente, spazio anche alle Olimpiadi, un'altra medaglia arriva dal salto in lungo grazie a Furlani, ma ce ne sono anche altre, andremo a vedere. Allora, partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo ad apertura, eccolo, droni e jet pronti per l'attacco. Teheran, questo secondo l'intelligence statunitense, avrebbe già spostato i lanciamissi, cioè li avrebbe riposizionati. E poi Putin, il presidente russo all'Iran, lo sapete, tra l'altro ha inviato il suo ex ministro della difesa, Shoigu, che invita la moderazione. Poi il nostro ministro degli esseri italiani dice che serve un'azione diplomatica di ampio raggio. Poi Hezbollah, stiamo già punendo Israele. In realtà anche l'Iran ha fatto sapere che già l'attesa è una punizione. E poi Sinwar, lo sapete, la mente dell'attacco, del micidiale attacco del 7 ottobre contro Israele, è stato nominato, è il nuovo capo di Hamas. E poi il titolo degli Stati Uniti, eccolo qui, Harris ha scelto con il sì di Obama, il vice sarà a Walls. La notizia sulle borse, eccolo qua, Tokyo si rialza, in certezza invece è un'Europa ancora cauti i mercati europei a proposito appunto del cosiddetto lunedì nero. Vediamo però questa bella foto che ci riporta a una realtà un po' più serena, è quella delle Olimpiadi. Quello nella foto è Furlane e ci ha portato un'altra medaglia, una medaglia di bronzo nel salto in lungo, il salto nel bronzo, la favola di Mattia. Vediamo la stampa. Le borse recuperano, Milano perde ancora, però ecco le chiusure di ieri, vedete Tokyo, Milano, Londra e New York purtroppo ancora maglia nera per piazza affari. Allora, Giappone e Wall Street positivi dopo la tempesta, ma piazza affari è in rosso, seppur di poco ma è in rosso. Fed pronta al maxi taglio dei tassi, questa è una delle ragioni che hanno portato proprio al crollo delle borse. C'è un'intervista a Tronchetti e Provera, ci dà la sua analisi naturalmente per quella che è la crisi economica, ecco un'anticipazione. La vera crisi è l'assenza di leader, quindi è importante questa critica. Il titolo sul Medio Oriente, Israele, Putin frena Kamehnei, la visita di Shoigu a Tehran e poi Nasrallah, attaccheremo le fabbriche, Hamas nomina Sinwara, nuovo capo di Hamas. E poi sotto, nel sommario, Mosca fornisce missili all'Iran, ma come dire, a una condizione non colpite i civili. E poi i jet di Tel Aviv a bassa quota su Beirut. Il salto nel futuro, lo vedete in questa buffa istantanea di Furlani, a soli 19 anni, ci ricorda, è bronzo nel lungo. E poi ancora, vi segnalo altre anticipazioni, abbiamo gli Stati Uniti, Kamala, sceglie Walls, il vice con LGBTQ. E poi c'è anche questo bel reportage di Francesca Mannocchi, proprio da Gaza, l'arma della fame per svuotare Gaza. Andiamo a vedere la Repubblica, che decide però, come vedete, di non aprire proprio su Israele e sull'Iran. Ma il titolo sul Medio Oriente è questo, Hamas, la guida politica a Sinwara, il regista militare del 7 ottobre. E poi l'altra notizia sugli Stati Uniti, Kamala Harris ha scelto il candidato vice Walls, il governatore del Minnesota. L'apertura con questo reportage con l'inviato è sull'Inghilterra, nel cuore di tenebre dell'Inghilterra. Lo sapete, ci sono stati questi violenti disordini, questi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, il motivo scatenante, i migranti. E allora, vedete, caccia migranti nel Regno Unito. E la Repubblica decide proprio di focalizzare, di aprire un focus proprio su questa situazione, manifestanti di estrema destra, con fortissimi episodi di intolleranza. Il taglio centrale, invece, sulla politica, RAI, muro dell'opposizione, PD, Movimento 5, 6, AWS, Azione e Italia Via sfidano compatti telemeloni e chiedono lo stop alle nomine nel servizio pubblico. Questo, appunto, è l'apertura della Repubblica. Andiamo a vedere il sole 24 ore, transizione 5.0, operativo il portale. Il titolo sulle notizie degli esseri, eccolo qui, amasse il duro, sinuare il nuovo capo politico, getti israeliani volano su Beriut a bassa quota e poi Eris sceglie Tim Walz come vicepresidente. Vi segnalo questa notizia, con questa tra l'altro anche una bella fotonotizia, questo è il faro di VS, siamo nel Gargano, in Puglia, della difesa. Ci sono due bandi per ridare vita a 36 siti. Difesa Servizi, società del Ministero della Difesa, in due bandi, propone in concessione 36 beni immobiliari e investitori italiani o esteri che presentino progetti di riqualificazione e valorizzazione. Ci sono palazzi, ville storiche, fari e quant'altro. Andremo a vedere se abbiamo il tempo nel dettaglio di che cosa si tratta. Intanto abbiamo il tempo di leggere il fatto quotidiano. Allora, Israele, Iran, droni e jet prima della tempesta. La notizia sugli Stati Uniti, il vice Kamala e Walz, americano medio di sinistra. E poi ancora invece su questo montaggio che ritrae un'aula di tribunale con tre giudici che hanno però il volto di Salvini, della Meloni e di Tajani. Niente carcere per i colletti bianchi, ancora incensurati. Non si fermano più le destre e l'Odg Costa che salva i politici dall'arresto. Il riferimento è anche alla proposta di Salvini, del Ministro Salvini, a proposito di uno scudo per i governatori. Salvini che ieri, vi ricordo, ha incontrato l'ex governatore della Liguria, Toti. Avvenire, sinuare a capo di tutta Hamas, jet su Beirut. Però ci ricorda anche di quanto avviene in Bangladesh. I giovani ribelli chiamano Yunus. Lo sapete, dopo aver costretto all'esilio, alla fuga, anzi precipitosa, della Premier, vogliono Yunus a capo del governo. E lui, inizialmente con riserva, poi ha accettato. Però il taglio centrale è sull'emergenza per i giovani carceri, ancora suicidi in cella. Il decreto non risolve nella notte la fiducia sul decreto legge nord. Un detenuto si toglie la vita a Biella, un altro in tribunale a Salerno. Andiamo a vedere il giornale. Il titolo. Putin all'Iran. Non dovete colpire civili. Il pressing di Biden per fermare Israele. C'è stato un colloquio telefonico con il re di Giordania. Peraltro il re di Giordania ha parlato telefonicamente anche con la Premier italiana Meloni. E poi la missione in Libano del generale Figliuolo, garantire la stabilità. Vi ricordo che siamo impegnati con oltre mille militari in Libano nella missione Unifil. E poi il binaccio di Giorgia. Meloni all'attacco ha concesso un'intervista. La Premier ha detto che l'opposizione pensa solo ai propri privilegi. Poi difende il governo, le riforme e i viaggi con la figlia. E poi l'ex prof che piace al mondo LGBT. Dobbiamo familiarizzare con questa volta, quello del governatore del Minnesota, ma è stato soprattutto indicato da Kamala Harris come suo vice. Restiamo per un momento sulla prima pagina del giornale, perché c'è il commento di Alessandro Sallussi. Leggiamolo. Guerre di droni e guerre di soldi. Vediamo che cosa dice. Certo c'è il mondo con il fiato sospeso per quello che sta accadendo in Ucraina. E' per quello che forse a ore potrebbe succedere in Medio Oriente fra Israele e Iran. Preoccupano i risvolti umanitari e il rischio che la situazione degenere, appunto da innescare per reazione a catena un conflitto su larga scala. Chi però queste cose le vive nelle stanze che contano e decidono ha una preoccupazione in meno e una in più. Quella in meno è che si esclude la possibilità che i conflitti regionali sfuggano di mano al punto da portare a una guerra mondiale che non avrebbe senso e ne porterebbe vantaggio a nessuno degli autori coinvolti. Quella in più è che il costo di questi focolai è talmente alto da renderlo alla lunga insostenibile per le nazioni militarmente più attrezzate. Quelle occidentali nel caso dell'Ucraina e Israele nella contesa con l'Iran. Mi fermo qui. Una breve pausa. Diamo la linea alla regia. Il tempo di bere se volete un caffè. Ci vediamo qui tra poco. Vi aspettiamo. Eccoci ben ritrovati. Ho preso la prima pagina della verità. Insiste sulle polemiche legate alla balneabilità delle acque della Senna. Allora, vedete, colpo di grazia in questo caso non è tanto con la Senna ma con l'organizzazione delle Olimpiadi. Vermi nella cibo. Le Olimpiadi di Parigi stanno diventando le peggio organizzate della storia. Perché? La clamorosa denuncia del fuoriclasse britannico Piti hanno scaricato su di noi la narrativa della sostenibilità. Per migliorare l'impatto ambientale ci hanno tolto le proteine, le critiche del nuotatore dopo quelle di moltissimi altri tra cui Ceccon e Paltrinieri. E poi Maurizio Belpietro, pulita, anzi no, sulla Senna Rep si smentisce in 16 pagine. Poi il trionfo dell'ideologia è Donna corre tra le donne ma si finge e trans. Il titolo sugli Stati Uniti, eccolo qui. La Harris cede ai pro-Palestina, tra parentesi e a Obama. Il vice sarà Waltz, come vi abbiamo detto, l'attuale governatore del Minnesota. Vediamo Libero l'apertura. Notti da incubo, zurri furiosi, fuga dal villaggio olimpico. Stiamo parlando ancora una volta delle Olimpiadi francesi. Viaggi scomodi, caldo e vermi nel cibo. Dei romeni e coreani gli atleti scappano in hotel. Perfino i francesi hanno preferito dormire altrove. Questa è quanto scrive appunto Libero. Andiamo a vedere altri giornali. Il resto del Carlino. Flat tax doppia per i paperoni stranieri. Oggi il decreto omnibus del governo. Nel pacchetto passa da 100 a 200 mila l'imposta per i ricchi che trasferiscono la residenza in Italia. Salta la sangata sulla tassa di soggiorno. Meloni attacca opposizioni feroci sulle riforme. Falso che i berlusconi mi sono ostili. E poi questa notizia qui è sulla tensione. In Medio Oriente i getti israeliani sopra Beirut ma l'Iran attende. Poi eccolo qui Tim Walz, vice di Kamala, un progressista del Midwest. Andiamo a vedere ancora un altro giornale. Abbiamo il giorno. Ah no, questo l'abbiamo appena visto perché è il resto del Carlino. Andiamo sul tempo. Caccia l'uomo bianco. In questa vignetta c'è Kamala Harris. La sfida contro Donald. E poi cambio l'Italia. La sinistra non vuole. Così la premia Meloni in un'intervista. E poi quest'uomo qui è il commissario. Pensate al granchio blu. È diventato una vera e propria emergenza. Al punto che il governo ha deciso di istituire proprio un commissario straordinario. Emergenza granchio blu. Arriva il commissario. Andiamo a vedere un'altra prima pagina. Abbiamo Milano Finanza rimbalza soltanto MPS. Il titolo d'apertura naturalmente è sulle borse. Piazza Affari in discesa dello 0,6%. Altra seduta in rosso. Chiudiamo la lettura delle prime pagine. Naturalmente con la gazzetta dello sport. Tamberi nelle qualificazioni dell'alto. Saltate come e poi volo nel futuro. Lungo Furlani e Bronzo. Allora queste le prime pagine. Andiamo a vedere le pagine interne. Partiamo proprio dalla notizia che domina però le principali prime pagine. Quella del Medio Oriente. Andiamo sul Corriere della Sera. Pagina 2. L'ansia è già una punizione. Jet israeliani sorvolano Beirut. Nasrallah dice attaccheremo. Putin chiede a Kamenei. Parliamo di Iran. Una risposta moderata. E poi Meloni che ha sentito il re di Giordania. C'è un reportage sotto. Questo presumibilmente è un rifugio antiaereo in Israele. E allora leggiamo la didascaria. Civili israeliani in un rifugio antiaereo mentre si sentono le sirene. Il 7 ottobre 2023 a Tel Aviv. Il giorno dell'attacco. Allora il reportage. Leggiamo il titolo di questo reportage da Tel Aviv. Di Davide Frattini. Cemento rinforzato. Filtraggio dell'aria. Antene della TV per avere notizie. Tel Aviv prepara la discesa nei bunker. Per legge deve esserci una stanza blindata per piano in allerta agli ospedali. Naturalmente potete immaginare c'è uno stato di massima allerta in tutto il paese. Sempre sul Corriere della Sera. I movimenti nelle basi. Le incursioni di prova. I passi incerti di Teheran verso la grande vendetta. Potrebbero essere colpiti. Impianti industriali e rete energetica. Leggiamo l'analisi di Guido Limpio che è sempre molto informato. Soprattutto su questi retroscena militari. Piccoli passi verso la vendetta di Teheran. Tra scambi di colpi. Promesse di azione profonda. Ma anche messaggi su un'azione più circoscritta. Le dichiarazioni non uniformi della teocrazia. Rappresentano tatticismi per tutelare le intenzioni. Uniti probabilmente a una differenza di vedute su come regolare i conti. Allora. I movimenti. La ricognizione USA ha segnalato. Movimenti in alcuni basi missilistiche dell'Iran. Possono essere i preparativi di un attacco. Mescolati a manovre di routine. I guardiani della rivoluzione. I Basarama. Dispongono di una dozzina di siti. Dei quali sono in grado di ingaggiare Israele. Un buon numero di equipaggiamenti. È protetto in gallerie. Dove sono ospitati i lanciatori mobili. Che nelle intenzioni degli strateghi. Dovrebbero garantire flessibilità e sopravvivenza dell'arsenale. Infatti il regime. Ha spesso celebrato con video e foto. La città dei missili. Costruita nel sottosuolo. Per contro gli israeliani hanno in dotazione armi anti-bunker e si addestrano da anni alla neutralizzazione dei rifugi. Leggiamo per un momento però anche quali potrebbero essere gli obiettivi. Se ne parla molto, scrive Olimpio. E torna l'idea che possono essere presi di mira impianti industriali e rete energetica ad Haifa nel Mediterraneo. Tra l'altro considerate che in questo modo si accontenterebbe anche Putin che ha chiesto appunto di non colpire i civili. E allora queste indiscrezioni fanno capire che gli obiettivi potrebbero essere le infrastrutture. Però c'è una controindicazione. L'IDF, cioè l'esercito israeliano, avrebbe fatto sapere al nemico che in questo caso ci sarebbe una risposta massiccia. Che coinvolgerebbe le infrastrutture dei paesi che faranno da base all'aggressione. In ambienti iraniani hanno dichiarato alla Reuters che Vladimir Putin avrebbe chiesto agli Ayatollah di evitare vittime tra i civili. Un invito alla prudenza bilanciato sul versante opposto da forniture di altre armi russe a Teheran. Missile, equipaggiamenti antiaerei, materiale per guerra elettronica e quant'altro. Insomma se volete potete approfondire la lettura sul Corriere della Sera, pagina 3. Restiamo sul Corriere della Sera perché come vedete dedica le prime pagine, quelle più importanti proprio a questa forte preoccupazione, a questa escalation. Medio Oriente in fiamme, del resto è il titolo che ha messo sopra la pagina. E allora in questo caso Andrea Nicastro è inviato a Beirut, in Libano. Lo sapete da giorni c'è un esodo di massa di tutti gli stranieri, i residenti nel paese. Fuga dai quartieri sciiti, le strade deserte all'imbrunire, il Premier critica chi dà per scontato l'attacco, discutere le date, dice fa il gioco israeliano. Andiamo sulla stampa, anche in questo caso a pagina 2, quindi una pagina importante, è dedicata al Medio Oriente. Putin invia armi ma avvisa l'Iran non colpisca i civili. E poi il titolo su Sinwar che è diventato il nuovo capo di Hamas, però è anche la mente diabolica dell'attacco del 7 ottobre. E allora abbiamo sotto un'intervista anche a un'analista dell'ICG, USA e Iran potrebbero coordinare, sottotraccia la risposta. Come dire, ci sarebbe una comunicazione tra Stati Uniti e Teheran, tra Washington e Teheran. A guadagnarci, dice soprattutto Mosca, gli Ayatollah devono mostrarsi dei forti. E allora, che cosa richiede? Dice, nonostante la riluttanza precipitare una guerra regionale, sembra che le parti ora abbiano elevato il livello di tolleranza del rischio. Perché? E allora, sentiamo la risposta. La guerra a Gaza ha raggiunto una fase di stallo. Netanyahu ha bisogno di prolungare il conflitto per la sua sopravvivenza politica. L'opzione verticale di escalation nella striscia si è esaurita. L'unica evoluzione possibile è intensificare il conflitto orizzontale. Se guardiamo all'Iran, l'umilazione subita è stata troppo profonda. Una non risposta dimostrerebbe l'incapacità delle regime di proteggere la propria patria e gli alleati. E allora, chi corre il rischio maggiore da un punto di vista militare? Se ci sarà una guerra, sarà molto costosa per tutti. Non c'è dubbio che Israele e gli Stati Uniti possano infliggere molti più danni all'Iran e ai suoi alleati. La differenza è nella tolleranza del dolore. I Yemen, Siria e Libano sono al collasso. L'Iran ha in gravi difficoltà economiche, ma diverse settimane di missili e droni sui cieli israeliani danneggerebbero il senso di sicurezza di Israele in modo irreversibile, almeno per una generazione. Questo, tra l'altro, è quanto sostiene in questa intervista. Andiamo ancora avanti, sempre sulla stampa, pagina 3, la guerra in Medio Oriente, la santa alleanza, la Repubblica degli Ayatollah era vista dall'Unione Sovietica come un nemico, ora il Kremlin e Terana si alleno in chiave antioccidente e si scambiano droni, missili e jet. Andiamo ancora avanti, c'è sempre sulla stampa, come lo dicevo prima, questo bel racconto di Francesca Mannocchi, parla di Gaza, la strategia della fame per l'estrema destra israeliana e il disimpegno della Gaza è una ferita da rimarginare. Così il ministro Smotri vorrebbe impedire che entri il cibo nella striscia, come dire, affamare la popolazione che è ancora lì nella striscia. Andiamo sulla Repubblica, a pagina 8 pone l'attenzione su quanto accade, potrebbe accadere nelle prossime ore tra Iran e Israele, l'Iran muove i missili e prepara l'attacco, Nasrallah minaccia AI, fa diplomazia e lavoro per frenare l'escalation, Putin media con Kamenei, ma per l'intelligenza statunitense Teheran ha spostato le piattaforme di lancio, il capo di Hezbollah, Israele, fa bene a temere. E poi l'attesa dell'attacco, parliamo di Israele, reparti nel sottosuolo, scorte medici e medicicli, gli ospedali israeliani in assetto di guerra, strutture attrezzate per esistere più giorni in caso di blackout totale, questo appunto per darvi il senso della situazione. Sempre su Repubblica un focus sul nuovo capo di Hamas, sinuare letto capo l'ipoteca di Teheran sul futuro di Hamas. E poi vi segnalo, andiamo in questo caso sul Fatto Quotidiano, a pagina 3, c'è un'intervista, un analista, si chiama Karim Emil Bitar, parla di Libano, Beirut senza leader, non può intervenire, però preoccupa Netanyahu. Questo è soltanto il titolo dell'intervista, se volete, come vi dicevo, la trovate a pagina 3. Cambiamo argomento, parliamo di Stati Uniti, lo abbiamo letto nelle prime pagine dei giornali, e con insieme Kamala Harris e Tim Walz l'ha scelto, l'attuale vicepresidente, come suo eventuale vice nel caso di vittoria alla Casa Bianca. Harris sceglie Walz come vice, la spinta della base è di Obama, è l'attuale governatore del Minnesota. Ancora, sempre sulla stampa, Walz, la scelta di Harris, il governatore del Minnesota, sarà il suo vice, c'è Guerriero con il sorriso, Trump spiazzato, scelta antisemite, applauso di Obama, è il partner ideale. C'è Brad Bannon, sondaggista, stratega democratico, vediamo che cosa ne pensa di questa scelta. Farà sembrare Vance, un personaggio bizzarro, Vance è il vice di Trump, la regista di tutta l'operazione, però sarebbe, secondo quanto sostiene Bannon, l'ex speaker della Camera, Nancy Pelosi, così appunto la sua opinione. Andiamo ancora avanti, sulla Repubblica, Harris balla il Walz, gioca con le parole naturalmente, il candidato vicepresidente arriva dal Minnesota. E poi sotto c'è Munch, in questa intervista, che cosa dice? È moderato, ha talento, Maidem serviva più coraggio, non porterà nuovi voti al partito. Questo è quanto dice in questa intervista. Andiamo ancora avanti, vediamo, sempre su Repubblica, disegna il personaggio, il prof di geografia, con l'area da zio Bonario, che difende i lavoratori e piace alla sinistra. Ancora avanti, cambiamo argomento, vi abbiamo detto, legato a quanto sta accadendo in questi giorni, c'è l'andamento, ce ne siamo accorti tutti dei mercati finanziari, con un lunedì davvero nero. Allora, le borse stanno recuperando, Milano no, ha chiuso ieri con lo 0,6% in meno, e c'è attesa naturalmente per vedere quale sarà l'apertura. La Fed ora studia un piano B, tassi, maxi taglio a settembre. Questo è lo scenario appunto che viene disegnato. Andiamo ancora avanti, perché sulla stampa abbiamo un'intervista a Marco Tronchetti Provera. Il titolo lo vedete nell'occhiello della pagina, le sfide dell'economia, che cosa dice? I nodi sono l'intelligenza artificiale e le armi nucleari, però, dice, servono leader capaci di gestirli. Il vicepresidente esecutivo di Perelli dice, i mercati temono lo strapotere delle big tech. L'Italia risente meno del calo tedesco, se aumenta la crescita può superare le instabilità. Allora, leggiamo per sommari rapidamente gli argomenti toccati da Tronchetti Provera. A proposito della bomba atomica, dopo la Seconda Guerra Mondiale se ne è parlato solo con Cuba. Ora si minaccia due volte al giorno, ahimè, ha ragione. Donald Trump, se fosse eletto l'Europa dovrebbe rivedere molte cose, dalla difesa al commercio. E poi, a proposito della Commissione Europea, dice, deve affrontare un futuro diverso. La transizione verde andrà rivista in modo significativo. Naturalmente parla di molte altre cose ancora e vi rimando a una lettura più completa. Parliamo anche di politica. Vedete Giorgia Meloni al suo arrivo in Cina. Con, vedete, tiene per mano la figlia. Meloni avanti con le riforme, attacca, dice, l'opposizione è feroce. Siamo i Berlusconi, rivendica il viaggio con la figlia. E su Gian Bruno, l'ex compagno, comunque il padre della figlia, dice, farà una vacanza con noi. Andiamo a vedere altre pagine. Proseguiamo perché parliamo in questo caso di un altro argomento che ha a che fare con la politica. Cioè, le nomine RAI. Sembra che tutto possa essere rinviato a settembre. Comunque, il titolo che sceglie la stampa è questo. Il campo largo si ricompatta sulla RAI. Appello unitario dell'opposizione, prima di nominare i vertici, serve una riforma della governance, applicare la legge dell'Unione Europea sull'indipendenza della TV. C'è anche un'intervista, però, ad Alessandra Todde, del Movimento 5 Stelle, guida la Sardegna, ci ricorda, dal marzo scorso. Lo sapete, ieri abbiamo letto qualcosa sui 5 Stelle a proposito di Casaleggio. Allora, sembra quasi una replica. Casaleggio ossessionato dal Movimento 5 Stelle, niente scissione, uniti con Conte. Vi ricordo che Casaleggio, ieri nell'intervista, ha criticato fortemente il leader Conte. La Presidente della Sardegna, appunto, la Todde, dice, regione in prima fila contro il governo, l'autonomia spacca il paese, io fermerò anche la speculazione energetica. E poi, però, ne ha anche per Matteo Renzi, dice, pensa alla convenienza, era di sinistra, poi riformista, anche un po' di centro, la gente non vuole prese in giro. E allora, andiamo per un momento, invece, ritorniamo a parlare di borse, perché, parlando anche di politica e quant'altro, c'è un'intervista a Tremonti. Dice, i crolli in mercati senza regola, adesso gli algoritmi allargano l'incertezza, questo a proposito dell'andamento dei mercati finanziari. Ancora, andiamo avanti, perché, ve l'avevo anticipato, il governo, e cambiamo chiaramente argomento, chiudiamo con argomenti un po' più leggeri, ma non tanto per il settore della pesca, in questo caso del granchio blu, che è diventato una vera e propria emergenza, al punto che è stata decisa la nomina di un prefetto, eccolo qui, il suo nome è Enrico Caterino, è stato nominato commissario straordinario per l'emergenza granchio blu. E qui, in rosso, vedete le zone dove è presente questo granchio che non è dei nostri mari, ma che è diventato comunque feroce. A proposito di mari, vediamo qualche bella foto, nella prima pagina del Sole24 c'è il faro di Vies, eccolo qui, ville, circoli, caserme, due avvisi per far rivivere 36 siti della difesa. In pratica, vengono aperte le concessioni a questi siti demaniali della difesa. E allora, io mi devo fermare qui con la rassegna stampa, do la linea alla regia per qualche istante, se volete ci vediamo tra poco con le ultimissime notizie del telegiornale. A tra poco. Grazie.